Questo lunedì 14 marzo le comunità cristiane e guardiane della Basilica del Santo Sepolcro si sono incontrate alle 10 del mattino per la cerimonia di avvio del progetto per la conservazione del pavimento della Basilica. Presenti insieme a Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, il patriarca greco ortodosso di Gerusalemme Teofilo III e il gran sacrestano del patriarcato armeno Sevan Garibian che hanno affidato alla custodia di Terra Santa il compito di farsi carico dei rilevanti interventi. Oltre a loro erano presenti anche il delegato apostolico per Gerusalemme, Sua Eccellenza Monsignor Tito Ilana, e Frado Bromiria Stahl, vicario custodiale. La prima parte si è svolta davanti all'edicola del Santo Sepolcro con la preghiera e un discorso di ognuno. A seguire i rappresentanti delle tre comunità e degli enti coinvolti si sono spostati verso il corridoio antistante la Sacrestia dei Francescani, da cui inizieranno i lavori, per il sollevamento della prima pietra. Presenti all'evento i rappresentanti degli enti che stanno realizzando il progetto di restauro, l'Università La Sapienza di Roma, il Centro per la Conservazione e il Restauro L'Avenaria Reale, il Politecnico di Milano, la ditta Manens di Padova e la ditta IG Ingegneria Geotecnica di Torino. Ho aspettato questo momento e questa è una grande benedizione per noi che abbiamo già, come sapete, finito i lavori di restauro dell'edicola ed era imperativo completare i lavori di restauro perché questo avrebbe restituito la bellezza e la santità del Santo Sepolcro. Sì, oggi direi è un giorno benedetto perché abbiamo potuto insieme, dopo questo lungo studio e anche dopo purtroppo le fatiche dovute alla pandemia, iniziare la seconda fase dei lavori. Per me è un motivo di grande gioia essere riusciti a preparare anche questo secondo intervento insieme con un afflato ecumenico e con un sentire davvero fraterno. È molto importante, non solo per noi stessi, ma anche per Dio, perché vogliamo che il Tempio di Dio sia presentabile, pulito, buono, in modo da dar gioia a Dio e noi spiritualmente saremo contenti di aver fatto qualcosa di buono per Dio e per i nostri fedeli. Quindi sono felice e l'intera comunità di Gerusalemme è felice che finalmente abbiamo deciso di iniziare i lavori e speriamo, preghiamo, che nulla vada storto con la ristrutturazione e che tutto sia fatto correttamente, in tempo e in modo costruttivo. Grazie al disegno di tutte le pietre del pavimento sarà possibile togliere e rimettere le lastre nello stesso luogo in un periodo che si stima essere intorno ai 26 mesi di durata. Per Fraddo Bromiri a Stahl è senza dubbio un momento storico nella vita di questo posto e nelle relazioni tra le comunità che sono presenti nella Basilica e nella Città Santa di Gerusalemme. Il progetto che oggi abbiamo iniziato con questa semplice cerimonia è stato iniziato diciamo tre anni fa in seguito al restauro dell'edicola. Le tre comunità hanno deciso di proseguire con il restauro del pavimento e certamente essendo un progetto di significato storico, ecumenico e direi anche ecclesiale senza dubbio è un momento storico nella storia di questo posto e anche nella storia direi delle relazioni, delle comunità che sono presenti qui nella Basilica e in Città Santa di Gerusalemme. Ogni giorno centinaia di pellegrini visitano la Chiesa del Santo Sepolcro. Con questa iniziativa i fedeli potranno continuare senza impedimenti a visitare la Basilica, il luogo più speciale per il mondo cristiano. Io credo che questo in un momento così difficile come quello che il mondo sta vivendo sia anche un segno e noi faremo salire anche durante i lavori sempre una preghiera incessante da questo luogo per la fine della pandemia ma in questo momento ancora di più direi per la pace, per la cessazione della guerra che è in Ucraina ma anche per la cessazione di tutte le guerre dimenticate che ahimè ci sono nel mondo.